Il veicolo automatico convenzionale in modalità guida o retromarcia inizia a muoversi quando si rilascia il pedale del freno. La marcia lenta del veicolo funziona allo stesso modo. Se è attivata, il veicolo si muove automaticamente quando si rilascia il pedale del freno ed è selezionata la modalità guida o retromarcia. Per attivare e disattivare la marcia lenta, il veicolo deve essere fermo e in posizione di parcheggio. Toccare l'icona Impostazioni nella schermata del menu Energia. Puoi selezionare Impostazioni My EV nella schermata Impostazioni. Scegliere Marcia lenta del veicolo, On o Off in marcia lenta del veicolo.